Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Allora, il nuovo video andrebbe di parlare un poco con voi. Come state? Tutto bene? Allora, nuovo video, vi com'è andato oggi la mia giornata, è andata piuttosto bene, però per andare verso il porto, dal porto bisogna dire il porticciolo, e dal porticciolo sono uscite. Cosa vi racconto di quello? Che praticamente oggi sono fissa molto con questi tipi di outfit che mi piacciono casino, non so se potete vedere, aspetta un secondo, vedete? E niente ragazze, ah, PS, PS, dunque, se a questo video si sente tutto un chiasso allucinante, non ci fate caso, prometto metterò la musica, perché forse così mi ascoltate di più, lo so, non ci provo. E che dire, io tra poco farò il letto, la camera mia è così, è inguardabile, ahia, mi sta facendo un po' male, fino a che io non faccio un po' sempre ora, e mi entico di farlo, pazienza, comunque adesso voglio parlare un po' con voi. Da questa parte per uscire la lampada, riesco a, non riesco bene, non ho una posizione, non la posso accendere, cioè non c'è un attacco qui, ma non importa. Se volete potervi là è perché non puoi andare alla mia nonna, niente. Quindi, praticamente, ragazze mie, rivoluzionerò totalmente il mio canale, e voglio mettere un po' più di musica in tutti, quasi in tutti i video, più o meno, perché, via, questi video sono troppo monotoni, quindi, ovviamente, questa non è la mia idea, è un'idea che devo ringraziare calorosamente una mia amica di YouTube, che saluto e ci siamo appena sentite proprio qua su, al telefono, e, perché voglio salutarle e dirle, cazzo di cuore, le consiglio, perché mi accorgevo ovviamente che questi video non erano così belli come volevo farli sembrare io, mi accorgimento, mi mette della musica, in alcuni video, vabbè, io volevo rimettere anche questo video, ma non lo so quando lo uscirò, quando lo pubblicherò questo video, e quindi ho intenzione di, sperando che questo video non vi a noi, io voglio dire che oggi no, sono uscita con la stessa borsa, aspetta ragazze mie, questa era la borsa da sempre con me, da quando l'ho acquistata, è bellissima, ora è un po' vecchiotta, però all'epoca era bellissima quando l'ho acquistata, perché non aveva questo manico qua bruttissimo, poi mostrando che questa borsa, che questo, insomma, non è il massimo, ma l'ho avuto a risparmiare per non comprare un'altra borsa, quindi questa borsa qui non è male per niente, ma non è neanche così brutta. All'inizio aveva un'altra colla più grossa, più larga e più, se potete restringere, ma questa, ovviamente, non si può restringere. Dirvi che ho usato quella borsa a portare l'altra che ho di là, quella grossa, grande così, e di queste dimensioni proprio ingombranti, nera. Stati là, ma non va bene, non so se ve l'ho detto, ma ve lo ti fa adesso, se non ve l'ho detto prima. Ho spolverato dove c'era, dove mi trucco io, dove monto il video, ma anche lui monta, adesso sto montando tutto il telefono, perché mi viene bene così. E poi, sto, ho spolverato anche dove ci sono i comodini, insomma, un po' dappertutto, ho spolverato, ho fatto una bella pulizia, da qui in avanti vorrò fare anche la pulizia, in diretta con voi, vediamo cosa mi esce di innovativo, appunto, ho un sacco di precedenti per YouTube, non so ancora quali metterò in atto, all'azione, però metterò in atto, appunto, perché mi interessa a me per parlare un po' con voi, e dimostrare soprattutto che ci tengo a voi, e dirvi che mi mancavate, mi mancavate, voglio parlare un po' con voi, tutto lì, voglio solo parlare un po', non so, ci voglio provare. Bene, grazie, io adesso, nel senso faccio una foto, un bacio, mettete un bel like, il supporto, un connesso di iscriverti al canale YouTube, e attivate la campanella per non perdere i prossimi video, e ciò la metto su canale YouTube, ciao!